No, troppo bella sta ripresa Grazie Ah Per avere il sole in faccia che non avere il sole. Ecco la valve nostra. Ci sono i monti innevati. Siamo al 30 di giugno. E via ci si tuffa. Ci. Sì. 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 Voi. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Sono i rulli solo nei posti estremi. Sono i rulli. Adesso i rulli. E' il punto più ardito. E' la rulli. 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 E' la rulli tanto bene. Siamo quasi arrivati. Faccio un po' di zoomare perché si muove tutto, non si capisce niente. Faccio una orugliera più tradizionale, questa è normale. Dura questa sbarra? Grazie. Hai trovato una vexbia come questa? Beh, come questa no, però ne ho prese di più vecchie. Ah si? Grazie. 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 Ottimo